Ciao a tutti, sono Davide. Oggi ho provato la Wilson Prostaff 97 V14, una racchetta che garantisce un maggior controllo e una maggior stabilità grazie al nuovo sistema Paradig Bending. Ho provato questa racchetta e per l'utente che cerca una racchetta con un maggior peso e un buon controllo consiglio la 97. che presenta un peso di 315 grammi. Oggi ho provato questa racchetta e ho trovato una buona profondità di palla sui colpi piatti e una buona notazione sui colpi di spin. Ciao ragazzi, oggi vi presento la nuova Prostaff 2023 nella versione 14, nello specifico la 97L. Le caratteristiche di questa racchetta sono un peso di 290 grammi, un piatto corde di 16-19 e un bilanciamento di 32,5. Ci offre anche questa nuova tecnologia che è definita Paradig Bending che dà la possibilità al telaio di flettere di più e questo ci permette di far uscire la palla in maniera più consistente. Sul campo ti dà una piacevolezza davvero importante nel momento in cui io prendo veramente al centro del piatto corde la palla. Chiaramente quando esco un po' dal centro diventa davvero difficile e difficoltosa. Comunque è una racchetta davvero importante, Prostaff, e ci richiamo un po' la Prostaff di un tempo come un vecchio piatto ma sempre molto molto buono. Vi aspetto nei nostri store e sui nostri canali social. Un saluto a tutti! Advantage U Un saluto a tutti!